A proposito, dottore, so che lei ha parlato con la mamma di Rosa. Ciao. E cosa le ha detto? È una storia un po' strana. Ti ricordi di quel posto? Quale posto? La madre di Rosa mi diceva che le ragazze fin da piccole erano abituate a giocare in quella campagna con un gruppo di amici. Una volta, quasi per caso, scoprirono quel canale. Rosa? Natalie? Dai, fai subito! Lo chiamavano il passaggio segreto.